Madonna che brutta ragazzi, vabbè. Ciao amici, come potete vedere oggi non sono nella mia stanza, sono in una meravigliosa stanza d'albergo, un giorno forse capirete perché. Quindi ho pensato di farvi vedere, so che mi stavo annoiando perché mi sono svegliata presto senza un motivo preciso, cosa fare in una camera d'albergo. Quindi niente, questo sarà il video. Mi raccomando, iscrivetevi ancora prima di vedere il video, mettete mi piace ancora prima di vedere il video e andate a stalkerarmi su tutti i miei social ancora prima di vedere il video. Ah, che bella vista. Ah, che bella, che bella. Ah, che bella, che bella, che bella, che bella. Sto morendo, bambini che state guardando questo video, non fatelo a casa. Comunque al di là di ciò, un applauso a me che sono riuscita a trovare dei cavalletti, non cavalletti in questa stanza. Niente, che vedevo di vi voglio bene, noi ci vediamo al prossimo video. Pace, amore e unicorni a tutti.